Un saluto a tutti amici, oggi voglio presentarvi e farvi vedere questo meraviglioso videoregistratore Un videoregistratore anni 80 di quelli che piacciono a me, parliamo di un videoregistratore di metà anni 80 della Philips Il modello è VR6643, proprio di quelli che piacciono a me, belli larghi, belli carini, belli fighi Andiamo a vedere subito il retro, come prima cosa, classico, quindi qui abbiamo una terghetta con tutto quanto Una SCART e i connettori RF per l'antenna, meccanica tutta qua, mega, super, ipersolida Ma andiamo a vedere le cose più belle di questo mondo Allora, prima di tutto ha un sistema digitale di, diciamo, soppressione del rumore, digitalizzazione del nastro, eccetera E comunque funziona molto molto bene, tra cui la pausa digitale, che è una cosa veramente veramente fenomenale Tutti questi tasti, poi li vedremo, sono retroilluminati e sono una figata, compreso il tasto a stand by Che adesso lo vado a premere per accendere il videoregistratore Bel display, bel display anche luminoso Vi spengo la luce perché si nota molto molto meglio che è ancora bello luminoso Con i canali memorizzati qua, i tasti per i canali Qui abbiamo il counter che possiamo vedere in alternativa al numero dei canali, molto più utile Dentro lo sportellino qua abbiamo il selettore della colorimetria Selettore del dettaglio, soft sharp, tracking manuale E poi i controlli per il timer e per la sintonia con anche tutte le varie scritte per la visione di questa Andiamo a inserire una cassetta Ovviamente non una cassetta a caso stavolta Inseriamo quella di SuperQuark, si accende la lucina LOD Molto molto caruccio, molto molto carina E diamo play Ora non so se vedete quanto sono belle queste immagini Quanto, quanto sono belle Lui, inutile dire, è carino e tutto quanto Tra l'altro qua fa vedere tutto il counter che scorre, eccetera La cosa più bella sono appunto questi tasti E il rete illuminate come vi dicevo prima E la pausa La pausa digitale Questo fotogramma perfetto Che adesso qua, ecco, appena si stabilizza un attimo il telefono Lo si può vedere Ed è digitale perché nel momento in cui lasciamo la pausa Come vedete Fa un saltello di fotogramma Perché riprende la lettura E riprende un po' la digitalizzazione dell'immagine Ma veramente ha dei colori impressionanti Veramente impressionanti Inutile dire che anche tutti gli altri controlli Come l'avanti, veloce L'indietro veloce Funzionano senza problemi con la doppia velocità Come vedete Anche mantenendo relativamente il tracking Ritorniamo in play Vi sposto manualmente il tracking Con questo affareto qua Per farvi vedere che comunque Lo mantiene Non riusciamo troppo a spostarlo Spostarlo perché comunque è relativamente preciso Il tracking digitale Ed è veramente, veramente, veramente figo Scarichiamo il nastro E non c'è molto altro da dire su questo videoregistatore Perché è proprio figo È proprio, proprio figo Non c'è niente da fare Inutile dire che questo entrerà in collezione Perché mi piace veramente troppo Non ho mai avuto un videoregistratore di questo tipo Che fosse degli anni 80 Con la correzione digitale Non dico che lo cercavo da tempo Ma comunque lo volevo da un po' Adesso che ce l'ho sono contento Detto questo, vi saluto al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti